relax totale relax totale oggi finalmente oh finalmente oggi proprio una goduria troppo forti e onestamente la selenitana non so cosa voglia fare con i verani in panchina perché a mio modo di vedere con i zaghi perdevano ok intanto attenzione non so neanche se ha fatto un tiro in porta però combatteva tanta attenzione vai Denzel corri che ti ho il fantacalcio corri Denzel questo è buono Di Marco questo è buono Di Marchino Arnautovic 4 a 0 finalmente guarda Turan come ride bello come è bello anche Buchanan un giocatore che io seguivo da penso almeno 2-3 anni al Bruges e che mi piaceva tantissimo poi l'accostamento dai questo non è magari non è assist di Dunfris ma è un bel contributo al gol almeno un mezzo votino in più diamolo poi l'accostamento all'Inter non è più stato preso adesso è stato preso per l'infortunio di Quadrado finita finita la partita ragazzi con il 4 a 0 di Marchino Arnautovic 25 tiri a 1 9 di rinporto a 0 io penso che non c'è niente da dire dicevo Buchanan ragazzi a me piaceva tantissimo tantissimo poi ho sentito tanti dire terzino ma che terzino questo questo è ala si e no poi è giocato esterno ogni tanto ha fatto il terzino si ma magari per emergenza è un esterno di centrocampo barra ala ok o ala barra esterno voi vedetela come vi pare ma ha delle qualità ragazzi l'abbiamo visto stasera con quella sterzata che è andato lì a tisalta così bello Buchanan se questo giocatore se questo ragazzo impara il tatticismo che c'è in Italia ed entra nel meccanismo perfetto di Zaghi questo ragazzo ci darà tante soddisfazioni tra l'altro lui gioca preferibilmente a destra oggi ha giocato anche a sinistra secondo me eh sì per far uscire bastoni ma anche perché secondo me Zaghi lo voleva vicino a sé per dargli magari istruzioni non essendo la prima partita mi è piaciuto come mi sono piaciuti tutti troppo forti ripeto questa salernitana ragazzi se prima gli davo una chance magari sai col cambio allenatore no ma non liberani non liberani ragazzi cosa devono fare cioè oggi zero la salernitana ripeto perdeva magari le partite perdeva appunto all'ultimo però combatteva giocava si vedeva che questa squadra c'era mancava solo il risultato mancava qualcosa in più però c'era e adesso neanche quello non c'è niente questa squadra zero al contrario dell'Inter ragazzi fortissimi tanto andiamo a vedere subito al fantacalcio un bel Pavard sei e mezzo un bel Deupris sette e mezzo più gol che va a dieci e mezzo ma manco il contributo al gol mi dai vedremo Candreva c'è anche Candreva però cinque e mezzo non è andata neanche così male ragazzi non c'è poco da dire c'è poco da dire un Inter fortissimo un Inter formidabile che ha dominato dal primo all'ultimo mi aspettavo un dominio dell'Inter in questa partita un dislivello così ma non così nettamente quindi ok poi sai ripeto anche il cambio allenatore ok che libera animo magari la squadra reagisce zero l'Inter ha dominato ha fatto quello che voleva tra l'altro mi stava facendo pure innervosire perché a un certo punto all'inizio partita ci siamo mangiati due gol con Turam a porta libera con Barella praticamente che poteva o piazzarla o passarla per fare il gol della merda a Turam e ha tirato una seetta addosso a Ciò non si sa perché e quindi potevamo stare già a 2-0 invece no ho Ciò che inizia a fare parate incredibili ho detto no per piacere non iniziamo con le partite del cazzo che la palla non vuole entrare e invece poi poi Lautaro ha sbagliato che ha cileccato la palla ha detto no non iniziamo per piacere con queste partite del cazzo invece dopo pum 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 1-2-3 e poi il quarto alla fine bello bene adesso ci aspetta l'Atletico no cazzo si ci aspetterà l'Atletico che ha perso Morata ha perso un altro giocatore un altro difensore mi pare adesso non mi ricordo il nome ragazzi più 10 se non sbaglio sulla Juve ormai ho perso il conto quindi andiamo subito a vedere perché non mi ricordo più 10 dovremmo essere a pari partite più 10 a pari partite la Juve che dovrà giocare col Verona e attenzione perché c'è anche il Milan perché se la Juve ci crede perché non dovrebbe crederci il Milan tra il 53 e il 52 se ci crede la Juve se consideriamo la Juve dobbiamo considerare anche il Milan visto che comunque in questo momento il Milan sembra messa un po' meglio della Juve devo dire un punto in tre partite prossima partita avremo il Lecce che non è facile oggi il Lecce ha perso fuori casa col Torino però sappiamo che andare a Lecce non è mai facile verremo dalla sfida di Champions quindi attenzione attenzione perché io non voglio mollare un cazzo noi non dobbiamo mollare un cazzo bello è Buchenne bello Pavard bello Lautaro belli tutti belli tutti quanti bello una partita a relax finalmente questo titolo penso che si intitolerà relax totale relax totale Sommer un altro biglietto praticamente non pagato da spettatore perché ormai Sommer fa lo spettatore ragazzi non c'è altro da dire di Sommer lo spettatore ogni tanto piazza una barriera perché c'è una pulizione ogni tanto un po' così va a raccattare la palla perché la spediscono in curva ormai insomma è rispettatore non pagante detto questo ragazzi adesso andiamo su arena sportiva come sempre come sempre da chissà come mai quando c'era la Juve lì col fiato sul collo e quando era avanti tutti là belli ringalluzziti no guarda a caso da dopo la sconfitta della Juve contro l'Inter iniziando a perdere punti pareggio con l'Empoli con l'Udinese la sconfitta più die spariti tutti spariti tutti i milanisti e i juventini attenzione che il loro amore si sta un po' sbretolando perché adesso tutti vogliono arrivare al secondo posto quindi attenzione ragazzi relax relax ragazzi adesso vi aspetto su arena sportiva andiamo a rompere un po' le palle a chi ci sta vi aspetto bello Buchanan non non eh hai capito detto questo alla prossima sempre sulla Forza Inter finalmente una serata rilassante